il signor giocasta vi ricordate signora del nostro litigio quella sera nel salottino giapponese a proposito di quel padre che aveva commesso un incesto ricordate il vostro sdegno le parole violente che mi lanciaste tutta l'esaltazione della vostra collera e ricordate anche quello che io dissi in difesa di quell'uomo voi allora lo condannaste io ora mi propongo di difenderlo nessuno dicevate nessuno potrebbe assolvere l'infamia di cui mi facevo difensore oggi racconterò quel dramma pubblicamente forse si troverà qualcuno che non scuserà la colpa immonda e brutale ma che capirà come non è possibile combattere contro certe fatalità che sembrano orribili fantasie della natura onnipossente l'avevano maritata a sedici anni con un uomo vecchio e duro un affarista avido della sua dote era una graziosa creatura bionda gaia e sognatrice insieme con grandi desideri di felicità ideale la delusione le piombò nel cuore e glielo spezzò capì tutto a tratto la vita l'avvenire perduto il crollo delle sue speranze e un solo desiderio le rimase nell'animo avere un bambino per occupare il suo amore non ne ebbe due anni passarono e la amò era un giovane di 23 anni che le voleva tanto bene da fare delle pazzie per lei e la tuttavia gli resiste risolutamente a lungo si chiamava pier martel una sera d'inverno si trovarono soli in casa di lei lui era venuto a prendere una tazza di tè poi si erano seduti vicino al fuoco su un basso canapè non parlavano morsi dal desiderio le labbra ardenti di quella sete selvaggia che le spinge a unirsi ad altre labbra le braccia frementi di aprirsi e di stringere la lampada velata di pizzi spandeva nel salotto silenzioso una luce intima e raccolta impacciati entrambi scambiavano di tanto in tanto qualche parola ma quando i loro occhi si incontravano un brivido sconvolgeva i loro cuori che può l'educazione contro la violenza degli istinti che può il pregiudizio del pudore contro la volontà irresistibile della natura le loro dita per caso si toccarono e questo bastò la forza brutale dei sensi li gettò uno verso l'altro si abbracciarono e della cedette rimase incinta per opera dell'amante o del marito non poteva saperlo ma dell'amante senza dubbio allora un timore la tormentò era convinta che sarebbe morta nel parto e continuava a far giurare a colui che l'aveva posseduta che avrebbe vegliato sul bambino per tutta la vita che non gli avrebbe mai rifiutato nulla che sarebbe stato tutto per lui tutto e anche se necessario che avrebbe commesso un delitto per la sua felicità questa ossessione racentò la follia si esaltava sempre di più via via che si avvicinava il termine morì dando alla luce una bambina per il giovane la disperazione fu terribile una disperazione così tremenda che non era possibile nasconderla il marito forse ebbe dei dubbi forse sapeva che sua figlia non poteva essere nata da lui chiuse la sua porta a colui che si credeva al padre vero e gli nascose la bimba che fece allevare in segreto e molti anni passarono Piermartel dimenticò come si dimentica qualunque cosa diventò ricco ma non amò più e non si ammogliò la sua vita era simile a quella di tanti altri uomini una vita felice e tranquilla non seppe più nulla del marito che aveva ingannato né della bimba che credeva sua ora una mattina ricevette la lettera di un tale che lo informava per caso della morte del suo antico rivale sentì un vago turbamento come un rimorso che ne era di quella bambina della sua bambina non poteva far nulla per lei fece delle ricerche la bimba era stata raccolta da una zia ed era povera quasi in miseria volle vederla ed aiutarla si fece presentare alla sola parente dell'orfana il suo nome non risvegliò nessun ricordo aveva 40 anni e sembrava ancora un giovanotto fu ricevuto ma non osò dire che aveva conosciuto la madre nel timore di far nascere più tardi qualche sospetto ora non appena ella entrò nel salotto dove lui aspettava ansiosamente la sua venuta ebbe una sorpresa che confinava con la paura era lei l'altra la morta la stessa età gli stessi occhi gli stessi capelli la stessa statura lo stesso sorriso la stessa voce l'illusione così completa lo faceva impazzire non capiva più nulla perdeva la testa tutto il suo amore tumultuoso di un tempo tornò a ribollire nel fondo del suo cuore anche lei era gaia e semplice subito amici e la mano tesa quando si ritrovò a casa si accorse che la vecchia ferita si era riaperta e pianse amaramente la testa nelle mani pianse l'altra assalito dai ricordi perseguitato dalle parole abituali che ella diceva ripiombato di colpo in una disperazione senza scampo e cominciò a frequentare la casa della ragazza non poteva fare a meno di lei del suo gaio chiacchierare del fruscio della sua veste delle intonazioni della sua voce ora le confondeva entrambe nel pensiero e nel cuore la scomparsa e la vivente dimenticando la distanza il tempo passato la morte continuando ad amare l'altra in costei amando costei nel ricordo dell'altra senza cercare più di capire e di sapere senza più domandarsi neppure se costei poteva veramente essere sua figlia ma talvolta alla vista della povertà in cui viveva la ragazza che gli amava di questo doppio amore confuso e incomprensibile a lui stesso lo torturava atrocemente che poteva fare offrire del denaro a che proposito con quale diritto fare la parte del tutore egli pareva di poco più grande di lei lo avrebbero scambiato per il suo amante trovarne marito questo pensiero che venne d'un tratto nel suo animo lo spaventò poi si calmò chi l'avrebbe sposata essa non aveva un soldo non un soldo la zia lo teneva d'occhio rendendosi chiaramente conto che era innamorato della fanciulla e lui aspettava che cosa lo sapeva forse una sera rimasero soli cacchieravano piano piano vicini vicini sul canapè del salottino d'un tratto egli le prese la mano commossa paterna la trattenne nelle sue turbato suo malgrado nel cuore e nei sensi non osando più respingere la mano che ella gli abbandonava e sentendosi venir meno tuttavia a trattenerla e imprevisamente ella gli cadde tra le braccia lo amava ardentemente come l'aveva amato sua madre quasi avesse ereditato questa passione fatale smarrito egli posò le labbra sui suoi capelli biondi e mentre ella rialzava la testa per fuggire le loro labbra si unirono si diventa pazze in certi momenti impazzirono quando si trovò in strada cominciò a camminare dritto davanti a sé senza sapere che fare io ricordo signora il vostro grido di sdegno non gli rimaneva che uccidersi vi risposi e lei doveva uccidere anche lei quella fanciulla lo amava con smarrimento follemente di quella passione fatale ed ereditaria che l'aveva buttata vergine inconsapevole e stordita sul petto di quell'uomo si era comportata così in quell'ebbrezza irresistibile di tutto l'essere che non capisce più che si dà che l'istinto tumultuoso travolge e getta nelle braccia di un amante come getta la femmina al maschio se lui si uccidesse che ne sarebbe di lei morrebbe disonorata disperata e torturata dalla vergogna che fare abbandonarla farle una dote maritarla ella morrebbe ugualmente morrebbe di dolore senza accettare il suo denaro né altro marito da che si era data a lui egli aveva spezzato la sua vita distrutto ogni possibile felicità per lei l'aveva condannata a una perpetua miseria a una disperazione eterna al fuoco eterno all'eterna solitudine o alla morte e inoltre anche lui l'amava l'amava con orrore adesso ma anche con impeto era sua figlia era vero il caso della fecondazione la legge brutale della riproduzione il contatto di un secondo avevano fatto figlia sua questa creatura che nessun vincolo legale univa a lui che amava come aveva amato sua madre e anche di più come se due passioni si fossero confusa in lui era davvero sua figlia del resto e se lo era che importanza poteva avere chi potrebbe venirlo a sapere gli tornava in mente il ricordo dei giuramenti fatti all'amorente aveva promesso di dare tutta la sua vita a quella bimba e di commettere un delitto magari per la sua felicità e l'amava immerzendosi nel pensiero del suo misfatto abominevole e dolcissimo straziato dal dolore e arso dal desiderio chi lo verrebbe a sapere l'altro il padre era morto sia e gli disse questo segreto infame mi spezzerà il cuore ma poiché ella non potrà mai sospettarlo io solo ne porterò il peso chiese la sua mano e la sposò se fu felice non lo so ma io stesso signora avrai fatto come lui a sapere che si 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 Grazie a tutti